Le basi per il trasloco della stazione degli autobus sull'areale della stazione ferroviaria di Bolzano sono poste. Sottoscritto tra provincia di Bolzano ed RFI un accordo che regola l'utilizzo dell'areale della stazione del capoluogo. Su un'area di circa 6.000 metri quadrati di proprietà della provincia a nord-est del palazzo provinciale 11 tra via Renone e il binario 1 è prevista la realizzazione della stazione provvisoria degli autobus urbani ed extraurbani insieme alle palazzine di servizio. Tanti effetti positivi ovviamente per i passeggeri, per gli utenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico. Più vicini, si può spostare da un mezzo all'altro e comunque vicini al centro di Bolzano, anche tutto senza barriere architettoniche e quant'altro con i servizi necessari. L'Alto Adige continua ad imporsi a livello internazionale come una delle film location più apprezzate. La conferma arriva dal secondo call 2018 per il finanziamento di progetti cinematografici. Si tratta di 1.500.000 di euro, l'effetto Alto Adige, cioè il ritorno sul territorio, sono almeno 3 milioni di euro, 12 progetti. Sette i progetti italiani finanziati, di cui cinque altoatesini, tre arrivano dalla Germania e due dall'Austria. Per quanto riguarda i progetti locali, prosegue la trilogia di Reinhold Meissner sulla storia dell'alpinismo. Da segnalare anche Luca più Silvana del regista Stefano Lisci, autore di Bar Mario, prodotto dalla Cooperativa 19. Il regista Stefano Lisci, autore di Bar Mario, prodotto dalla Cooperativa 19. Il regista Stefano Lisci, autore di Bar Mario, prodotto dalla Cooperativa 19.